Lei è titolare del corso Rivoluzione Digitale al Politecnico, un corso particolarmente innovativo perché tratta la materia come trasversale riguardo numerosi settori della società, economia, cultura, letteratura e soprattutto tecnologia. Il digitale come può aiutare il Piemonte a uscire dalla crisi di questi ultimi anni? Secondo me è una componente molto importante. Il digitale ormai lo sappiamo da addirittura quasi 40 anni non è soltanto ICT, non è soltanto un settore produttivo che si affianca agli altri, è qualcosa che va a innervare tutte le attività non soltanto economiche ma anche sociali in senso lato e quindi la vera sfida del digitale, a parte l'aspetto tecnico, io sono un ingegnere informatico quindi chiaramente sono sensibile all'aspetto tecnico, ma è proprio sforzarsi di capire in che modo il digitale nelle sue varie forme può andare a innervare, ad arricchire, a rendere più produttivo il lavoro di tutti che fossero le vigne delle langhe o le grandi manifatture, le grandi fabbriche. Quindi c'è un costante pensare riflettere a livello internazionale su in che modo il digitale cambia X, dove X è quasi tutto, dai giornali a, ripeto, le grandi fabbriche, leggevo di recente proprio l'applicazione del digitale al modo in cui si costruisce fisicamente nelle fabbriche e questa è la sfida che abbiamo. È una sfida che affrontiamo avendo acquisito qualche, secondo me, meritato titolo di merito negli scorsi anni, dove il Piemonte si è presentato in alcuni punti come all'avanguardia a livello addirittura europeo, penso per esempio agli Open Data, dove il Piemonte è stato uno dei primi istituzioni a mettere online un portale Open Data e sicuramente il primo in Italia. Ecco, guarderei i prossimi cinque anni come la fase due, che è assolutamente indispensabile per costruire, su quanto di buono c'è già come istituzioni, persone ed esperienze, ma dare molto più respiro, un grosso investimento trasversale sul digitale per contribuire a risollevare questa regione che, come sappiamo, affronta sfide molto grandi dal punto di vista economico. Per fare questo mi sembra importante ragionare, come diceva lei all'inizio, in un'ottica trasversale, cioè capire che il digitale trasversalmente riguarda, mi verrebbe da dire tutto, se non sembra sia iperbolico, ma sì, quasi tutto o tutto veramente.